allora per le sei e mezzo da portar via come ha detto una briata si e a lente di pollo piccato normali va bene a posto vai alle sei e mezzo ciao 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 salve una domanda ma che gli succede io e che ,i perchè sta mandata da tua Hao questaậyta nel pane artigianale con le melanzane ,un fenomeni invece di cena ,noncede a me tu ci fai canguro e tu ci metti un pochino di lampredotto anche con la maionese si lampredotto! Allora amore ascolta a me, mi fa rincazzare! Ah non si vuole, non si vuole, ma tu lo ti fai? Ma tu lo dici? Dai a me, te mangialo come te lo dico io, se tu ci fai un pochino in piccata, se no tu lo lasci così, ok? E senti, e la beuta che mi metti nella beuta? Che mi fai a bere? Una beuta? Me la fai una beuta! Con il calguro ci sta bene la calibro 5! Oh perché siamo aulina? Si è, è al finito! Vai Mimmo, metti da sedere, vai! Che tu mi avevi fatto delle luci a testar qui in piedi! Sì certo che metti a sedere, che mangio un piede dentro la! Via! O te con questo capo che fa a provincia! Che sei della ferruccia! O te con questa testa a piedi lì tutta a me! E io? Ma veramente? Ciocco! Oh? Ma che c'ho la da sapinolo? Ah no c'ho la dai! Wendy, Wendy, dammi quella mazza! Wendy, dammi quella mazza! Chiara, Chiara, dammi quel panino! Dammi quel panino Chiara! Joker, è tutto pronto! Buono a servettare! Questo lo pagavo, lo porto via! FAME CHIMICA FAME CHIMICA Per Halloween, rosticciana in salsa barbecue! Stinco al forno e si fanno TA! Aperti 7 giorni su 7! FAME CHIMICA FAME CHIMICA